Campioni del mondo di motociclismo, uno su pista, l'altro su terra, ma ecco di arrivare il rombo dei motori che si alza, pronti, via! Vai, 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 il primo cambio di direzione, pulito, perfetto Valentino il secondo cambio arriva altrettanto bene, mamma mia, che sfioro di muro che muro che avevo visto, dentro immediatamente della zona vista